Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. Il nome di Sergei Milinkovic Savic risuona nell'aria del calciomercato come una vera e propria tempesta pronta a sconvolgere gli equilibri, con l'Inter in prima fila ad accogliere l'eventuale cambiamento. Il centrocampista serbo, reduce da un'esperienza calcistica in Arabia Saudita con la Lilal, sembra essere tornato prepotentemente nell'orbita nerazzurra, l'affare, tuttavia, non si presenta come una passeggiata. Il club saudita, determinato a trattenere il giocatore nel proprio progetto, offre a Milinkovic Savic un ingaggio che sfiora l'inarrivabile per l'Inter. Ma c'è un dettaglio che potrebbe dare una svolta. L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, conosce il centrocampista sin troppo bene e sarebbe più che entusiasta di accoglierlo a braccia aperte nel suo roster. L'idea di un possibile ritorno di Milinkovic Savic all'Inter, tuttavia, non è emersa da fonti ufficiali o trattative in corso, ma piuttosto da una suggestione lanciata dall'ex calciatore e volto noto di Sky Sport. Durante una sua recente apparizione sul noto canale, Bergomi ha sollevato il velo sulla presunta mancanza dell'Inter, suggerendo che un centrocampista dalla struttura fisica imponente, come Milinkovic Savic potrebbe essere la chiave per rendere la squadra davvero invincibile e competitiva. L'affermazione di Bergomi, seppur intrigante, pone l'accento su un ostacolo non trascurabile, l'ingaggio del giocatore. Una variabile economica che potrebbe complicare la realizzazione di questo scenario. Resta da vedere se questa suggestione prenderà forma o rimarrà un'idea allettante nel cassetto delle voci di mercato. Ma una cosa è certa. Il nome di Milinkovic Savic continua a catalizzare l'attenzione. E l'Inter, con Simone Inzaghi in panchina, potrebbe essere destinata a seguire da vicino questa saga calcistica.